buonasera eccoci qui in un piccolo gambeggio in una località sconosciuta notare quanta luce fino a poco facere il sole abbiamo mangiato tutto era buonissimo la guoga ha cucinato benissimo fusilli pangetta e panna ottimi pomodoro di Adele ottimo vino portato da casa fatto una finaccia piena fa la ruggine la guoga è scazzata la marocca è felice io sto felice e quindi sono stanchino e quindi adesso laviamo i piatti e andiamo a nennare subito se non si fa notte andiamo a nennare a occhi aperti va bene va bene panoramica c'è questa buzza qua che mette anche la allora l'acqua della Nicola c'è due signorini con la barba bianca che pare Babbo Natale e invece questa zona a me pare che mi si costa di più questa roba che puzza siccome sai che tu non li sopporti gli insetti ti viene tutti vicino un'ora un'ora e poi c'è quella corsa a Bordogna c'è la tendina piccolina lì qui c'è due ragazzi biondi due filanzali quasi tutti i biondi mi favo lo stambo poi poi basta poi ha detto Alessandra che adesso fa fare un servizio va bene vi saluto con questo splendido gelo ci vediamo domani con internet domani a Oslo buonanotte grazie